La delusione è ancora tanta, la sconfitta nel derby di domenica sera ha quasi tagliato fuori il Foggia dalla possibilità di prendere parte agli spareggi. L'aritmetica in realtà dice che ci sarebbe ancora spazio per provarci, ma obiettivamente per far sì che il Foggia non vada in vacanza già da sabato sera servirà che si realizzi una serie di combinazioni. Due, le ipotesi che potrebbero portare ancora il Foggia ai playoff, la prima è quella di un clamoroso sorpasso sul traguardo ai danni del Cerignola che in tal caso dovrebbe perdere in casa col Giuliano, col Foggia invece vittorioso a Teramo contro il Monterosi. L'altra ipotesi invece è legata all'undicesimo posto che potrebbe portare a spareggiare nell'eventualità il Catania precipitasse in zona playoff, perdendo di fatto la card conquistata con la Coppa Italia per la fase finale dei playoff. Card che nell'eventualità verrebbe invalidata con una sconfitta del Foggia sul campo del Monterosi ed una contemporanea sconfitta interna del Catania contro il Benevento, unita al successo della Turris a Brindisi e alla sconfitta o al pari del Francavilla a Potenza. A finire in zona playoff in tal caso sarebbero proprio gli etnei che non godrebbero a quel punto nemmeno della possibilità offerta dal regolamento che non prevede spareggio se tra la quintultima e la penultima il divario è superiore agli otto punti. Un successo proprio del Monterosi unito alla combinazione di risultati poc'anzi ipotizzata consentirebbe al Foggia di giocarsi a quel punto l'undicesima piazza col Sorrento che ovviamente dovrebbe perdere a Caserta per tenere in vita i rossoneri. Tutte ipotesi obiettivamente di difficile realizzazione ma che potrebbero in ogni caso materializzarsi viste le sfide in programma. Ciò che è certo è che il Foggia non è più padrone del proprio destino, lo era fino a domenica prima di affrontare il Cerignola, poi il Carachiri con gli errori a ripetizione di Cudini, la prova orrenda dei rossoneri proprio sul più bello e una rimonta di due mesi che rischia di essere cestinata proprio quando ormai sembrava fatta. Grazie. Grazie.